Dopo l'intervista rilasciata ai nostri microfoni da parte del sindaco della città di Agropoli, Adamo Coppola, inerente l'incontro con la prefettura per discutere della regolarità dell'autovelox, ad intervenire è il consigliere di opposizione Agostino Abbate. Sono diversi anni che parliamo dell'autovelox e forse io sono stato il primo dei tre consiglieri che ci sono adesso, che siamo adesso, cioè Consolato e Gisella che non c'erano prima, a parlare dell'autovelox. E ho criticato fortemente l'agguato che all'inizio praticamente si perpetrava con questo strumento di misurazione della velocità. L'ho criticato, l'ho fatto scrivere in delibera varie volte. Poi dopo di che abbiamo tralasciato la cosa perché purtroppo nella vita non ci può essere ragione se non quella di diritto. E il diritto viene molto spesso negato. Di fatti, ricollegandomi a questa intervista del sindaco Adamo Coppola dove dice che è stato in prefettura e la prefettura praticamente sembra avesse riferito al sindaco di Agropoli che era a posto ma che mancava un po' di visibilità alla segnaletica dell'autovelox. Ebbene, io dico che la cosa più grave che poteva fare la prefettura di Salerno è proprio questa. Di fatti, a voler ragionare un attimo con attenzione, se l'autovelox viene posto nelle condizioni non regolamentari quindi con una visibilità scarsissima della segnaletica, vuol dire che contraddice a una norma del codice della strada ma non soltanto una norma, a tutto il regolamento del codice della strada laddove tratta la posizione di questi strumenti di misurazione di velocità. Quindi tralasciare da parte della prefettura e dire vabbè, fino ad oggi è andata così, la segnaletica è stata scarsa attiviamo una migliore segnaletica. È gravissimo perché questo significa trattare i cittadini in modo diverso cioè nel senso che un cittadino deve essere posto in condizioni di parità con l'altro cittadino se e ove mai il regolamento non avesse prescritto determinate condizioni allora la prefettura poteva avere pure ragione ma se la prefettura ha riscontrato che l'autovelox, la segnaletica non è adeguata tutte le multe fatte fino ad oggi, che fine faranno? Cioè nel senso che i cittadini che sono stati multati con un agguato perché la segnaletica non era idonea hanno già pagato e comunque è andata così gli altri invece da oggi in poi avranno una segnaletica più visibile e quindi di conseguenza si guarderanno bene da superare la velocità. Questo per quanto riguarda il diritto, diritto che già altre volte ho affrontato proprio con la televisione presente anche in Consiglio Comunale nel senso di dire che la maggioranza fa quello che può perché giustamente sa la maggioranza riesce praticamente a portare le linee laddove vuole la minoranza fa l'opposizione che deve ma quando la magistratura o gli organi superiori tipo la prefettura non interviene adeguatamente questo è il peggio che si possa verificare in una città questo è il peggio e mi auguro che non si verifichi mai più nemmeno in questa occasione dell'autovelox il signor avvocato Giuseppe Russo se non sbaglio in varie notizie date su Facebook a un certo punto dice opposizione dove sei? e si rivolge ad Abbate, a Caccamo e a Bottiglia ma io vorrei dire a Giuseppe Russo che l'opposizione a Giuseppe Russo ha fatto tutto e sta facendo sempre di più ma se gli organi sopraordinati tipo qual è la prefettura non ha dignità nel dare il veto a quello che controlegge contro regolamenti io non so praticamente dove possiamo arrivare questa è la verità